Se io prendo la difesa di Baiocchi, tu rinuncia a questa pagliacciata di fare l'avvocato? Beh, l'hai detto anche tu, la sentenza della corte è molto... Guarda che lo so che vuoi fare la pelle in Cassazione. Perché posso vincere. Non vincerai mai. Non essere pessimista, cazzo! Non sono pessimista, io sono veggente, io prevedo guai e mi premonisco. Che cosa dovrei fare, dimmi? Hai un diploma di maestra, insegna. Oppure sposati, come fanno tutte le ragazze normali. In questa casa il matrimonio piace molto. Mamma sta già organizzando anche il mio. È solo un ballo, Marianne. Va bene. Se mi aiuti con Baiocchi, non farò ricorso. Giuro. Anche perché Lidia Cara... Scusami, tesoro. Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna. No? Giusto. Grazie, tesoro. Ecco, brava. Prega.